Aule deserte e bambini che sono rimasti a casa. Un inizio di anno scolastico problematico al plesso San Giovanni Bosco dopo l'allarme che si è generato ieri, primo giorno di scuola, legato alla presenza di escrementi di topi. Un allarme ingiustificato per l'assessora alla pubblica istruzione, Gisella Mondino. Che cosa è successo negli ultimi giorni e perché si è generata questa preoccupazione? Io perché si sia generata questa preoccupazione in realtà non lo comprendo bene. Ho parlato oggi con la dirigente scolastica la quale mi ha confermato che le classi del primo piano sono entrate regolarmente e i genitori dei bambini che frequentano l'ingresso di via Verona hanno deciso di non portare i bambini a scuola ma non c'erano le condizioni perché lo facessero perché la dirigente non ha segnalato alcun problema relativo alla presenza di eventuali topi o descrementi. Non ci sono stati anche nei giorni passati questi problemi? Una segnalazione c'è stata fatta dalla dirigente scolastica, gli uffici hanno fatto subito il loro intervento. Ci siamo sentite oggi. Nessuno degli operatori scolastici stamattina ha constatato la presenza di eventuali escrementi. Quindi nei giorni scorsi si era verificato questo problema e si è fatto l'intervento? Prima che iniziasse la scuola. Infatti quello che ci si chiedeva era come era possibile che giusto il primo giorno di scuola si verificasse questo problema posto che sicuramente sarà stata effettuata una pulizia dei locali. Certo, la pulizia dei locali deve essere sicuramente stata effettuata ed è a carico delle scuole. Quindi per noi stiamo cercando di attivare tutto quello che è necessario fare. Per carità i problemi possono anche sorgere ma si risolvono. Certamente non c'è da parte nostra, non veniamo meno a quelli che sono i nostri doveri istituzionali. Abbiamo fatto subito l'intervento e ripeto la dirigente scolastica mi dice che è stata una scelta dei genitori questa mattina. Quindi è un allarme ingiustificato, non c'è un'emergenza topi in quel plesso? A noi ad oggi non risulta. I genitori tra l'altro attendono, almeno così dicono, questo intervento di deratizzazione della città che poi interesserà tutte le zone di sciacca chiaramente ma che non riguarda solo l'edificio. Voi in quell'edificio non ritenete di dover intervenire nuovamente con questo intervento? L'intervento è stato già effettuato. Se si dovessero verificare altri episodi, se la dirigente scolastica ce li segnala noi è chiaro che torneremo a fare un altro intervento per come giusto che sia. Sulla deratizzazione cittadina gli uffici l'hanno già predisposta. Nelle modalità che sono previste dalla legge non mi pare che in occasione della deratizzazione cittadina si debba disporre la chiusura delle scuole, degli uffici, dei supermercati, delle banche. Senta, ma lei cosa sente di dire alle famiglie di questi bambini che chiaramente sono preoccupate che questo allarme si è comunque generato e tra l'altro hanno intenzione anche lunedì di non mandare a scuola i propri figli se non addirittura tutta la settimana? Io mi sento di dire che io da mamma sarei preoccupata come loro se oggettivamente ci fosse di che preoccuparsi. Il comune, l'amministrazione, io in persona sono pronta a verificare tramite gli uffici ovviamente se ci dovessero essere altre situazioni nel caso saremo immediatamente, tempestivamente faremo un'ordinanza di chiusura della scuola dico però ci deve essere il dato oggettivo per poterlo fare e deve essere segnalato da chi di competenza.